D'ora in poi anche per fare spesa nel negozietto di fiducia sarà possibile scegliere se usare il carrello a due ruote o quello virtuale e quanto consente da alcune settimane Shoppy Spesa, applicazione per smartphone grazie a cui è possibile fare i propri acquisti a distanza e poi decidere se ritirarli di persona o farseli consegnare a casa propria anche oltre l'orario di chiusura. Shoppy Spesa è un progetto realizzato e ideato completamente in provincia di Cuneo, è nato nell'estate del 2016 tramite la collaborazione dei Digital X con l'ASCOM Cuneo e ASCOM Savigliano quindi si è creato un tavolo dove tecnici, commerciali ed esperti soprattutto dell'ASCOM a livello di esperienza sui negozi e su quelle che hanno le attività commerciali abbiamo ideato questo prodotto per aiutare i piccoli negozi della provincia di Cuneo tramite uno strumento innovativo digitale a poter vendere e migliorare il loro rapporto con i clienti. Tramite questa applicazione mobile i piccoli negozi hanno la possibilità di controllare il loro catalogo dei prodotti quindi possono inserire tutto quello che normalmente vendono al pubblico con la differenza che le persone possono acquistare i prodotti senza dover per forza venire in negozio. Anzi, dalle prossime settimane ci sarà la possibilità di farsi consegnare anche fino in tarda serata i prodotti acquistati sulla piattaforma. In questo caso l'applicazione è completamente gratuita quindi per gli smartphone iOS, gli smartphone Android dove gli utenti una volta scaricati a shop e spesa hanno la possibilità infatti di vedere tutti i negozi nella zona ma anche quelli più distanti quindi con la possibilità per esempio di poter prenotare quelli che sono i propri articoli di spesa quindi la diciamo la piccola spesa quotidiana che normalmente farebbero entrando nel negozio stesso ma con la differenza che potendosela prenotare preventivamente possono arrivare in negozio, trovarla già pronta e portarsela a casa. 35 fino ad ora le attività commerciali entrate a far parte del progetto 25 situate a Cuneo e nei dintorni per esempio Borgo, Sandalmazzo, Boves, Peveragne e Busca e 10 tra Savigliano, Cavallermaggiore e Racconigi. I negozianti potranno scegliere se consegnare personalmente la merce a casa dei clienti o appoggiarsi ad un'azienda saviglianese specializzata nelle consegne a domicilio. La sfida di questa applicazione commentano dalla Confcommercio di Savigliano e Cuneo è quella di portare la spesa 2.0 anche lontano dai grandi centri urbani dando nuova linfa vitale al tessuto economico e commerciale della provincia. Quello che troverei per esempio in un grande supermercato lo trovo in più negozi perché possiamo avere il macellaio, la pescheria, il panettiere, l'erboristeria, il piccolo mini market, la tabaccheria tutto è possibile tramite Shopping Spesa quindi l'utente ha la libertà in questo caso di poter decidere a che ora per esempio farsi capitare la spesa oppure quali articoli comprare, può già vedere il prezzo finale.